Successe di venerdì sera, all'ora del cambio del turno tra gli educatori che operavano nell'Istituto Vittorio Emanuele. Durante l'intervallo della proiezione di un film, solitamente quel giorno della settimana era dedicato alla visione di pellicole cinematografiche, i ragazzi raggiungevano i bagni per i loro bisogni. Probabilmente per gioco, ma anche per fatalità, uno di loro, Canaletti il cognome, nove anni d'età, rimase soffocato tra gli asciugamani che pendevano dal rullo a parete. Così i dipendenti e gli educatori dell'Istituto ricordano quel tragico episodio. Era il 1975. A quell'epoca, ospiti del Vittorio Emanuele erano centinaia di ragazzi tutti in età scolare, ragazzi provenienti da famiglie difficili o numerose, ragazzi non riconosciuti dai propri genitori. Difficile tenerli a bada tutti e contemporaneamente. A seguito di quel tragico episodio fu celebrato un processo. Le accuse nei confronti dei dirigenti e degli educatori presenti al momento del fatto fu di omicidio, ma gli accertamenti portarono a una sentenza di piena assoluzione per tutti. Che sia proprio quel ragazzo il canaletti ad aggirarsi ancora tra le stanze e le camerate del Vittorio Emanuele? Le risposte le cercano gli associati del Ghost Hunter Puglia. L'associazione è stata fondata a Giovinazzo un anno fa, a novembre 2012, da Mario Contino, scrittore appassionato di esoterismo. In un paio di visite nell'istituto, i cacciatori di fantasmi hanno registrato la voce di un bambino che diceva di avere nove anni. Immaginazione, autosuggestione? Forse. Ma varrebbe la pena di approfondire. In altri paesi, soprattutto Inghilterra e Scozia, le presenze paranormali sono accettate da chi crede e comunque tollerate dagli scettici. E la caccia ai fantasmi ha generato un movimento turistico ad hoc, con considerevole ritorno economico. Il team dei Ghost Buster di Giovinazzo è composto da sette persone, si avvale dell'utilizzo di strumentazioni tecnologiche raffinate per rilevare eventuali segnali, anche se non supportato da una vera e propria scienza, al contrario di quanto accade negli Stati Uniti, dove esiste addirittura la facoltà universitaria di parapsicologia.